Una vittoria importante anche perché avete avuto lo svantaggio iniziale poi quando sembrava che la partita avesse preso una certa inersa a vostro favore è arrivato il pareggio nel secondo tempo di Ventola e che ha rimesso in discussione i risultati. Sì, come dicevo prima, noi siamo prati bene, abbiamo avuto un paio di casi subito che potevano fare gol e è stato bravo il portiere e poi abbiamo preso gol, però nonostante abbiamo preso gol abbiamo dimostrato di essere una grande squadra non ci siamo fatti abbattere da questo gol preso abbiamo ripreso in mano la partita andando in vantaggio col 2-1 e poi abbiamo preso questo gol del 2-2 ma nonostante quello abbiamo creato tanto abbiamo macinato il gioco e abbiamo creato veramente tante occasioni quindi oggi abbiamo meritato vincere. Ho un'impressione sulla maceratese che è agli antipodi della vostra classifica però penso che abbia lottato fino in fondo Sì, hanno lottato fino in fondo, sicuramente in qualche cosa non ci hanno messo in difficoltà però se una squadra quando non vince, magari da 5-6 partite, magari è un po' fragile mentalmente quindi questo può succedere a tutte le squadre però sicuramente è una squadra con valori che si può salvare sicuramente Ok, grazie